Cari fratelli e sorelle, Nei nostri cuori portiamo il dolore per gli atti terroristici che in questi ultimi giorni hanno causato numerose vittime, in Burkina Faso, in Spagna, Finlandia. Preghiamo per tutti i defunti, per i feriti e per i loro familiari e supplichiamo il Signore, Dio di misericordia e di pace, di liberare il mondo da questa disumana violenza.